Ragazzi, è tutto pronta per partire per questi campionati italiani. Finalmente, dopo tantissimi anni, torno a fare il campionato italiano a Serbia, dove l'avevo vinto col mio primo Poli Petit. Andiamo! Ragazzi, siamo arrivati e questo sarà il campo dove io e Daphne per la prima volta faremo il nostro campionato italiano. Adesso andrò a montare Daphne, lo lavorerò un pochino in piano, tanto si è riposato dal viaggio questa mattina, si è riposato questa mattina e niente, adesso lo lavorerò un po' in piano e poi vado a dare un'occhiata se c'è già giù il percorso per domani mattina nel campo in erba. No, ma questa catenella qui vogliamo parlare. E poi mi sono arrivate le medagliate d'argento. Sono personalizzate con i nomi dei miei cavalli. Non ci credo. Possiamo vedere? Certo. Andiamo? Questo è di Daphne. D'argento. D'argento? C'è anche quella di diamante, ma lo metto nel cassone. La vedremo domani. Sì. Daphne detto? Il baffo. Il baffo. Il baffo. Il baffo. Il baffo. Il baffo. I wanna stay in this feeling It's starting to hold on We're turning it off It's starting to be a little bit Let's have a look I'm going to tell you I'm going to turn it to you Just a little bit I'm going to turn it to you Sto ruolando e il suo cavallo è Tepodi Sto ruolando e il nostro corso gratuito E allora com'è andata? Bellissimo, non potevo andare meglio Per ora ho fatto zero e non me l'aspettavo perché Tepodi ha solo 7 anni ed è la sua prima volta nel campo in erba E ho fatto zero, per ora sono prima in classifica provvisoria e vedremo come finisce la gara Perché tutti gli altri sono comunque più esperti con cavalli molto più esperti Hai notato differenze con Tepodi sul campo in erba rispetto al campo in sabbia? No perché è coraggioso quindi vado a tutti Non dovrebbe essere divertito anche lui Siamo al secondo giorno Oggi abbiamo la seconda prova di campionato La gara sarà a tempo Inizierà alle ore 11 Ma adesso sono le 8 Quindi devo ancora sfasciare, togliere la creta, passeggiarlo, girarlo alla corda E poi inizierò a prepararlo per la gara Ci vediamo più tardi Ciao Ma chi? Diamant? No O Daffo? No Diamant ha vinto la 135 ieri con Edo E ancora oggi fa la 135 con Edo Io monto sempre Ah Daffo 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 di il detto baffo È baffo È molto arrabbiato il baffo È arrabbiato perché te sei Sei eri di là con diamanti È geloso È geloso È geloso È geloso Alla partenza con 24 punti dopo la prima prova del campionato istruttori Parte Daffo del Alla partenza con 24 punti dopo la prima prova del campionato istruttori Alla partenza con 24 punti dopo la prima prova del campionato istruttori Alla partenza con 24 punti dopo la prima prova del campionato istruttori Alla partenza con 24 punti dopo la prima prova del campionato istruttori Com'è andata? Benissimo Anche oggi per ora prima in classifica però vediamo perché ne mancano ancora 4 Ho perso un ferro non so come ho fatto saltare a metà percorso senza un ferro senza ramponi E poi hai fatto un etto eh Ho fatto un etto ho fatto una scivolata Daffo è stato fenomenale E' pronto per la finale? E' pronto per la finale, sta prendendo aria, va, l'avete messo proprio davanti, bella aria fresca. Questa è l'unica Bosto e Rolando è stesso del 53 punti dopo le due prove. Musica 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 Alla fine com'è andata? E' alla fine medaglia d'argento, ce l'abbiamo fatta! Musica Questa dunque è l'elita del campionato di scrittori, dannerà il migliore amato del campionato di scrittori e il secondo posto è il Degoli, qui da l'elita Bosto e Rolando. Musica Musica Fuoco, fuoco, fuoco! Musica E' sciampare, ce l'ho da me acqua! Musica Just give me a chance I know that we can find a If you really believe 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 Grazie a tutti.